Benvenuti amici al nostro appuntamento settimanale con i consigli di lettura. Questa settimana ti racconto un libro, vi propone il romanzo di Laura Fagiolini. Passeranno i morti, resteranno i sogni. È la storia di Gianni, un giovanissimo soldato fascista, che incontra Irma Bandiera, detta Mimma, una donna della Resistenza che viene imprigionata e torturata affinché riveli i nomi dei suoi compagni. Nei sette giorni in cui la vita di Gianni e di Irma si incrocerà, il giovane soldato vedrà crollare tutte le sue idee, tutte le sue certezze e sarà gettato del baratro del disorientamento. La storia vera di Irma Bandiera è la storia di una donna che ha donato con grande generosità e spirito di sacrificio la sua vita, la giovinezza e la bellezza per la libertà del paese. Con questo romanzo Laura Fagiolini rende anche giustizia e fa memoria delle tante donne della Resistenza. Un romanzo in cui al rigore storico, alla ricerca storica, si affianca una narrazione potente, evocativa, emotivamente coinvolgente. Passeranno i morti, resteranno i sogni, la storia di Gianni e di Irma Bandiera detta Mimma, la storia di ideali per i quali vale la pena lottare fino al sacrificio estremo della vita. L'incontro di due esperienze, due prospettive diverse, soprattutto l'incontro della lotta che porterà il nostro paese alla libertà e alla democrazia. Il romanzo di Laura Fagiolini fa ancora una volta memoria, la memoria che è un valore, il valore del nostro paese, che ha radici forti e salde e che ha saputo aprire le proprie ali e volare in alto. Il nostro consiglio di questa settimana dunque è il romanzo di Laura Fagiolini, passeranno i morti, resteranno i sogni. Io vi auguro buona lettura e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo autore e un nuovo libro. Ciao!